Alvise Casellati Paolo Gianicei qui con me in questa platea che di fatto è diventata una buca orchestrale con i suoi pro e i suoi contro così attendiamo che si levi il sipario digitale sulla vedova allegra che viene rappresentata in questo carnevale un po' particolare diciamo ma che testimonia la volontà di continuare a fare produzione lirica dei teatri appunto del Veneto Allora la prima domanda la facciamo al regista perché ci spieghi come ha scelto di inscenare quest'opera mescola, contemporaneità, passato, vediamo c'è il profumo della belle époque, che cosa succede? Esatto, in questo periodo che stiamo vivendo io punto tutto su questa grande ironia che è l'operetta su questo genere giustamente molto mescolato, molto misto fra vari generi che però trovo uno stile suo in questo non prendersi mai sul serio quindi anche uno scherzo sulle epoche appunto sul fin du siècle oppure sull'inizio del novecento che aspettava le guerre senza saperlo insomma un periodo veramente di leggerezza di cui forse abbiamo bisogno in questo momento e anche un momento di riflessione su quanto sia strano questo genere che ha tantissimi affezionati in genere dell'operetta e allo stesso tempo può parlare anche al pubblico che non lo conosce e quindi creare uno spettacolo che nasce cinematografico che parli veramente al pubblico sia degli affezionati e sia del pubblico giovane, nuovo che ha bisogno di staccare un po' e capire che cosa, questa piccola follia a cui ci stiamo dedicando da un bel po' di giorni Ci dicevano gli artisti prima che è una regia bella dinamica insomma che si corre, che si fatica anche in scena e che appunto gli abiti mescolano le epoche guardando alla quotidianità ma ricordando anche che questa appunto fosse l'ultima grande risata prima dell'inizio di un periodo tremendo per la storia dell'Europa che è quello delle due guerre mondiali vedremo presente, vedremo passato e vedremo una maxi bottiglia di prosecco anche in scena Certo, certamente, anche qui è una grande ironia sulla face perché un po' l'operetta ha sempre questa passione per lo champagne tutta da partire dal pepistrello alla vedova c'è sempre questa atmosfera sempre un po' malinconica e sempre un po' alterata, sempre un po' ebra di champagne non si capisce mai dove sia la realtà e dove l'immaginazione è un po' obnubilata e quindi anche, giustamente, noi l'abbiamo italianizzata siamo qua in Veneto, quindi abbiamo questa bottiglia gigante di prosecco perché gigante è la prospettiva che cambia le proporzioni, insomma come vedere le cose da vicino o da lontano anche il gioco fra grande, piccolo, fra moderno, fra antico insomma è un grande strumento ottico che la televisione ci aiuta ad amplificare certo, che è aiutato anche dal mezzo per cui nasce perché di fatto questo è un lavoro che nasce assolutamente per lo streaming e quindi dal punto di vista registico consente soluzioni anche diverse forse complica un pochettino più le cose dal punto di vista musicale visto che abbiamo gli artisti in scena, l'orchestra in platea e delle distanze un pochettino più importanti da amministrare è così Alvise? Si cerca sempre la giusta misura, in alcune buche d'orchestra gli orchestrali si lamentano di essere troppo compressi oggi invece c'è l'esatto opposto diciamo sotto il profilo della difficoltà dell'essere insieme certamente questa è una delle sfide però come diceva appunto il regista c'è bisogno in questo momento di leggerezza di siamo appesantiti, siamo sfiniti e quindi ancora benvenga un attimo di sorriso, di ironia sotto il profilo musicale i waltzer e questa musica è difficilissima sembra facile all'udito ed è molto difficile invece da proprio interpretare, eseguire e quindi questa è una sfida aggiuntiva questa leggerezza sentire questa atmosfera appunto waltzer, vienna insomma ricordiamoci qui appunto siamo inizi novecento 1905 era morto Strauss da sei anni quindi si pensava di aver perso questa tradizione all'improvviso esce un capolavoro incredibile e quindi dicevo sotto il profilo musicale bisogna anche ricordarsi questa frivolezza e anche momenti drammatici non vanno appesantiti perché qui il dramma sono le lacrime di Coccodrillo no, non è un vero dramma tutto annega alla fine una coppa di champagne o di prosecco quindi sotto anche il profilo musicale bisogna io ho cercato di delineare una certa sobrietà nel senso di non dilungare i drammi, i tempi eccetera ma di decidere di avere quella leggerezza e quella scorrevolezza che dal mio punto di vista richiede poi si chiama operetta ci terrei a dire che operetta sia questo sia il Fledermausse, il Pipistrello sono operone infatti questa è l'altra domanda quindi non hanno nulla non c'è una serie A o una serie B questa è una serie A più un po' come la rondine di Puccini hanno semplicemente un carattere di frivolezza quindi sono leggere ma non per questo sono altrettanto da considerarsi altrettanto serie anzi sono molto serie nel lavoro e nell'interpretazione Lear scrive La vedova allegra che diventa un capolavoro quasi proprio malgrado nel senso che all'inizio è forse solo lui a crederci lui è Mizi Günther e gli straordinari interpreti della prima appunto al Teater Ander Wien sappiamo che però Lear per tutta la vita scriverà e desidererà essere anche accreditato come compositore d'opera e sappiamo anche della sua fitta corrispondenza con Puccini questo ci dà già anche il senso della densità della partitura che come si diceva deve rimanere fluida deve rimanere sempre un dramma di facciata però che musicalmente è densissima è proprio un capolavoro musicale ha alcune pagine del cuore di questa operetta che è vero è una silloge di capolavori però ognuno di noi poi c'è quel momento che ama particolarmente quando sfoglia la pagina e arriva là dici c'è il Lippenschweig che è quello no? c'è il labbro è uno dei momenti questo waltzer questa dolcezza del waltzer ma anche le parti corali quasi bandistiche ma è una banda super sofisticata voglio dire e lui di bande se ne intendeva tra l'altro non ci ricordiamo c'è questo aneddoto divertentissimo di Gustav Mahler di Alma Mahler che ascoltano bellissimo al teater Anderwien e dopodiché cercando di riprodurre tutto al pianoforte non si ricordano un passo e Mahler va a Dobling a far finta di chiedere delle sue composizioni quando la moglie invece sbircia il canto piano per capire il passaggio tanta era il divertimento che avevano avuto e continuavano quindi sono un po' le cose popolari non un po' la rigoletto quando c'era il tema della donna immobile che tutti la fischiettano questo è stato un altro è la genialità della semplicità ma anche poi del libretto dell'ironia questi sentimenti voglio dire la donna ricca e tutti che si stendono la consapevolezza però poi il messaggio buono che vince l'amore vince la persona disinteressata quindi anche nell'operetta in tutto questo quadro così frivolo c'è anche un messaggio a lieto fine che i valori puri alla fine pagano e vincono sulla morale impura degli approfittatori quindi ci sono tutte queste scene super divertenti intrighi amorosi insomma è spassosissima tra l'altro voi l'avete resa ancora più preziosa con la partecipazione di Daniela Mazzucato e Max Rene Cosotti coppia d'oro dell'operetta di tutti i tempi non a caso artisti lirici che per primi hanno capito anche il valore dell'operetta e quindi regalandoci una versione ancora più particolare e speciale della Vedo Vallegra come di fatto un po' deve essere nell'operetta che trae molto anche dal senso del momento dall'improvvisazione un carnevale molto difficile un carnevale di teatri chiusi che si spera dia però poi il passo ad una primavera e ad un'estate diversa vi chiedo una considerazione su questo particolare momento storico e sui tanti artisti che non stanno lavorando diciamo che una delle difficoltà della pandemia del teatro chiuso è arrivare alla fine della pandemia con gli artisti che non abbia perso il loro livello artistico perché rimanere sulla cresta dell'onda posso fare l'esempio di un atleta un atleta che non si allena più i 100 metri per arrivare ai tempi che faceva prima ci vorranno anni quindi i danni più gravi di questa pandemia è decisamente la perdita di denaro per le partite IVA per gli artisti eccetera ma soprattutto il fatto che i giovani in questo momento non stanno lavorando alcuni nomi stanno lavorando e anche questi nomi si sente una fatica quindi la cosa più importante che io direi è di fare di tutto per mantenere il livello artistico quindi il fatto di essere aperti oggi è molto importante l'altra dà messaggi positivi l'altra è quella è l'opportunità da cogliere in un momento di difficoltà in questo momento di difficoltà l'opportunità da cogliere è l'expertise dello streaming nel senso che noi ci ritroveremo con un teatro come il Teatro Verdi che ha quanti posti? 800? 1000? diventerà un teatro da 5000 quindi anche per uno sponsor che investe anche per un sistema diventa la possibilità di dare a tutti un bene pubblico come quello dell'opera che fa parte del nostro DNA quindi mancava l'expertise mancava pensare di fare un'opera esattamente con la telecamera in determinati modi quindi io non credo che lo streaming sostituirà mai il pubblico dal vivo perché esserci è un'altra cosa e questo lo sanno tutti però credo che l'opportunità sia questa proprio l'expertise che deriverà dal poter mandare nell'aria nello streaming e raggiungere quante più persone possibili attraverso lo streaming domani oggi di sicuro ma ancora di più domani e questo si lega anche al discorso che facevamo sulla regia quindi l'apertura potenziale ad un pubblico nuovo magari di millennial di giovani che non sarebbero venuti ad acquistare un biglietto per essere in teatro ma che magari capitandoci o scegliendo di fare un'esperienza diversa possano appassionarsi certo io apprezzo molto lo stile del maestro che è molto pragmatico molto pratico a parte ovviamente l'idea dell'avviamento di carriere che non possono interrompersi e quindi questo periodo di paralisi può essere molto dannoso io leggevo l'altro giorno che vendono gli strumenti ormai i musicisti che non possono suonare una vera depressione soprattutto questo approccio sull'ampliare le platee la fortuna di questo genere è nata quando i teatri erano aperti ogni sera e si faceva la coda e gli impresari guadagnavano facendo teatro era un business ed è così che si sono scritte i compositori erano assediati dagli impresari perché scrivessero in tempi brevi li chiedevano a settimane e insomma c'era una domanda di questo prodotto culturale che il giorno d'oggi sembra veramente un altro pianeta invece è così che il genere è vitale quando la gente fa la coda per entrare nel teatro un teatro vuoto e ci evoca il colore che in teatro poi non so se siano leggende porta sfortuna che è il viola che è la quaresima si parlava di carnevale e il carnevale era la festa poi arrivava la quaresima e si stava chiusi e gli attori e gli artisti non avevano da mangiare quindi noi abbiamo avuto un anno di quaresima se vogliamo di chiusura adesso l'obiettivo è riaprire riavere le platee piene anche quelle virtuali mi piace molto questa idea di moltiplicare il nostro pubblico ecco in questo sento anche abbastanza la responsabilità di aprire il messaggio per tutti certo dobbiamo veramente dare valore anche a questa esperienza dello streaming raccolgo questo ragionamento del maestro Casellati che trovo molto giusto per questi tempi finirà lo streaming i teatri ritorneranno a Popolasi però lo streaming è stato fondamentale in questo momento e probabilmente lo sarà per aprire un nuovo pubblico ai teatri io vi ringrazio vi auguro buon lavoro siamo alle battute finali e tra poco andremo in scena grazie per essere stati con noi e grazie per il carnevale digitale che ci regalerete con la vedova allegra di Franz Lehar buon divertimento grazie aspettiamo Omar Montanari baritono nel ruolo buon pomeriggio del barone Mirko Zeta perennemente preoccupato per queste casse dello stato di Pontevedro un ruolo molto attuale un ruolo molto attuale infatti ci si chiede dove comincia l'operetta e dove finisce la politica e viceversa quindi la realtà attingere dalla realtà è sempre molto bello specialmente in teatro e quindi insomma in questo ruolo da diplomatico un ruolo che lei ha già interpretato sì al teatro Petruzzelli per la prima volta nel 2016 nell'edizione del maestro Tiezzi è stato un bellissimo debutto anche lì e devo dire riprenderla dopo sei anni mi ha fatto particolarmente piacere insomma ecco si trova qui a Padova in questa versione particolare nata per lo seminico ma è questa una regia diciamo dinamica molto 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 dinamica chiaramente nei limiti diciamo delle costrizioni delle limitazioni che tutti sappiamo però devo dire che alla fine si risolve sempre tutto in meglio insomma con la buona volontà e la partecipazione di tutti perché certo perché non è facile dover combinare una regia che abbia un suo ritmo poi come è fondamentale nell'operetta assolutamente a tutti questi lacci laccioli e giuste limitazioni insomma per prevenire assolutamente voi poi siete tamponatissimi per questo dobbiamo dirlo c'è una cura costante allora questo barone Mirko Zeta come sarà il suo personaggio in questa versione ma devo dire abbastanza tradizionale sempre nei canoni diciamo io cerco di adeguare in questa versione questo personaggio perché non ha niente devo dire a che vedere con quello di Bari era un'altra cosa quindi ogni volta la base è quella però il vestito cambia quindi bisogna adattare bisogna adattarsi ed è anche bello così perché si scoprono sfaccettature nuove che magari nell'altra versione non avevo curato invece qua ne curo altri aspetti e viceversa è bello così insomma è la vitalità di questo mestiere assolutamente assolutamente ecco lei ha inaugurato la pandemia in una città simbolo Bergamo all'apertura del Donizetti Opera Festival con una delle opere che formavano il tritico di quella che avrebbe dovuto essere la riapertura fisica del teatro esattamente esattamente ecco Bergamo è ancora una ferita aperta nell'Italia che clima ha vissuto lì ma anche lì un clima particolarmente toccante ma nello stesso tempo combattivo e partigiano diciamo perché si sentiva proprio l'esigenza di voler andare in scena in qualsiasi modo nei limiti sempre del possibile però è stato un mese intenso anche perché l'opera è la terza opera di Donizetti non la si conosceva non la si cantava da 200 anni per cui però anche lì ci siamo tutti adoperati per fare il meglio spero ed è stato veramente significativo per me stai imparando a cantare le opere in streaming perché ormai non ero abituato anche questa è una versione in streaming qual è l'aspetto che bisogna curare di più considerando la vicinanza della telecamera considerando perché noi siamo sempre diciamo nell'ambito dei cantanti c'è la preoccupazione che la voce arrivi esattamente che venga proiettata qui anche perché fin di conti anche le distanze col maestro come vediamo sono parecchie notevoli per cui il contatto stesso con il suo braccio è importante insomma non parliamo dell'assenza del pubblico perché veramente però io dico è come fare alla fine un film va bene faremo questa cosa nuova ci si propone ci si butta perché altrimenti nel momento in cui si incominciano a costruire delle barriere ci si rigidisce non si fa più niente se l'alternativa è la stasi esatto no 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 invece questo è stato un espediente che devo dire funziona non è la stessa cosa e non ci si deve abituare però in caso di emergenza serve insomma bene allora in questo carnevale insolito salutiamo il barone Mirko Z alias baritono Omar Montanari e lo ringraziamo grazie grazie a voi a presto bella bella giovane annoiata maritata ad un vecchio che la trascura indaffarato noioso volto stanco Anastasia Bartoli che buongiorno che interpreterà anzi debutterà il ruolo di Anna Glavari quindi la vedova allegra la protagonista dell'opera di Lear opera che possiamo dire è il simbolo dell'operetta è il capolavoro riconosciuto ma in realtà è un'opera che avrebbe tranquillamente potuto non andare neanche in scena e questo dobbiamo dirlo qualche volta non bisogna ascoltare i direttori dei teatri se Lear lo avesse fatto quella volta a Vienna al Theater Ander Wien un teatro importante dove fu dato il Fidelio dove fu dato il flauto magico di Mozart non sarebbe mai andato in scena perché gli arrivò questa bella frase Da ist kamusik questa non è musica quando l'opera in realtà anche grazie alla straordinaria interpretazione di Mitzi Günther di cui poi parleremo diventò celebre alla trecentesima replica il teatro volle regalare al pubblico e alle Ar una medaglia e quando si trattò di scegliere che cosa scrivere su questa effigia Lear volle proprio questa frase da ist kamusik insomma se lei era un po' legata al dito diciamo così ecco allora un debutto un debutto in questo carnevale un po' strano un debutto per una voce che però sarà proiettata poi verso tutt'altro repertorio che è il repertorio drammatico di agilità come ha affrontato questo ruolo il ruolo di Anna semplicemente cercando di mettere quelle che sono le mie caratterialità come persona e le mie caratteristiche vocali al servizio di questo ruolo che sicuramente non è un ruolo leggero nel senso che presenta delle difficoltà tecniche anche interpretative delle delicatezze quindi e soprattutto l'espressività che chiaramente è la parte più importante per un'operetta perché è molto parlato come e quindi bisogna anche cercare insomma di far capire che si stiamo dicendo quindi speriamo di farcela perché si sa che noi cantantini ricci abbiamo sempre il problema a volte si un po' vaghi diciamo quindi si è un'opera divertentissima da cantare per me e veramente bella perché insomma è tutta bella dall'inizio alla fine ma le parti di Anna Glavari insomma mi proprio mi godo a cantarle perché sono spettacolari tutte quando si impara un ruolo si mette un po' a frutto una serie anche di esperienze del passato che adesso con la tecnologia insomma sono anche più esattamente più accessibili e lei si è ispirata a qualche artista che ha interpretato il ruolo di Anna guardi le rispondo subito di no nel senso che io non amo ispirarmi ad altre perché poi si finisce sempre per copiare a destra e a sinistra ah mi piace come fa questo mi piace come fa quel passaggio sicuramente posso aver avuto un aiuto nel guardare tantissime Anne Glavari diciamo interpretate da più artiste per appunto vedere come affrontano i vari passaggi quindi per avere un aiuto diciamo però io cerco di non di ispirarmi proprio a me stessa cioè come sono io come Anastasia ok mettiamo qualcosa di Anastasia in questo personaggio e vediamo se riusciamo a creare un personaggio tutto nuovo che chiaramente ogni Anna Glavari è un Anna Glavari a sé perché ogni cantante ci mette il suo ovviamente quindi spero sia originale e che rispecchi anche un pochino quella che l'interprete cioè la tua personalità ecco i suoi prossimi impegni in realtà la portano da tutt'altra parte diciamo ecco vogliamo un po' eh fra meno di due mesi dovrei insomma anzi dovrei farò diciamo così perché basta coronavirus non ce la facciamo più debutterò la di Macbeth diretta dal maestro Riccardo Muti nell'ambito dell'accademia appunto del maestro Muti a Tokyo bene beh insomma in questo momento in Giappone i teatri sembra che lavorino funzionano e quindi insomma quindi fra due mesi vi penserò da Tokyo con un po' di sushi buono e con tutt'altro carattere diciamo un pochettino più sanguinario mettiamola così è un lavoro introspettivo non indifferente perché il personaggio sono tutti difficili da capire i personaggi che uno interpreta ma Lady Macbeth c'è questo processo di scena verso la follia che è molto impegnativo per un interprete chiudiamo invece con la sua pagina del cuore nella Vedo Vallegra qual è il momento secondo lei più bello? la mia pagina del cuore eh interessante beh diciamo che io sono un amante non dei momenti sdolcinati purtroppo per i miei partners ma amo molti momenti di piglio e anche di un po' di carattere diciamo quindi mi piace molto quando lei reagisce a Danilo dicendo ah sì mi dici su per quello che è stato il nostro passato te faccio vedere io adesso e quindi dice io mi sposo guarda mi sposo questo belloccio qua il signor De Rossillon e vediamo un po' quindi mi piace nel momento in cui lo faccio in gelosia che quindi capiamo che tutti e due ci amiamo come due disperati alla fine quindi alla fine c'è anche lì il romanticismo ecco però è un romanticismo un po' più litigarello diciamo così bene allora grazie ad Anastasia Batri grazie a lei e in bocca al lupo per questo crepi il lupo crepi il lupo grazie Alessandro Safina buonasera buonasera nel ruolo Charmant del conte Danilo a cui torna dopo un po' di anni che ha cantato varie volte insomma una carriera interessante la sua giocata tra lirica e operetta insomma aperta comunque cross over diciamo così tanto sì ho fatto una carriera un po' strana ma ho fatto delle scelte tanti anni fa all'inizio ho iniziato normalmente poi nel 99 mi arrivarono delle canzoni poi poi ebbi l'opportunità di debutare a Trieste con Gino Landi e con Daniela e Max ho lavorato tante volte nell'operetta poi ho fatto anche tante canzoni pop ho fatto ho fatto il possibile ho fatto quello ho cercato sempre di fare quello senza perclusioni quello che pensavo che mi venisse meglio noi l'abbiamo ascoltata di recente nel concerto di Capodanno dei teatri del Veneto sì con Amy Stewart sì che conosco da tanti anni canzoni chanson adesso ritorna con l'operetta che insomma è un'operetta certo è l'icona dell'operetta ma la vedo vallegra è un'opera tutti gli effetti come densità musicale anche eh sì ci vogliono cantanti sì poi c'è tutta la parte e poi questa volta ci saranno le stedicam in scena c'è c'è questa situazione io sono a parte sono sempre teso io di natura e questa volta particolarmente non dormo la notte è il primo titolo che realizza in streaming integrale speriamo anche l'ultimo sinceramente non le piace questa dimensione no non è che non mi piace mi piacerebbe che tornassimo alla normalità il più presto con tutto il rispetto per quello che che quest'operazione ha comportato è perché è più è più difficile però insomma dai se si torna pubblico bella la platea con l'orchestra ma sinceramente con la gente è meglio le faccio questa domanda perché appunto lei ha lavorato molto anche nel mondo della canzone abbiamo assistito negli ultimi giorni ad uno psicodrama collettivo pubblico sì pubblico no a Sanremo Amadeus che lascia non le è sembrato un po' irrispettuoso nei confronti dei teatri che sono chiusi e degli artisti lirici che invece hanno tranquillamente lavorato in streaming e senza pubblico io l'ho trovato una cosa della quale non c'era neanche bisogno di parlarne di una cosa del genere non vedo perché Sanremo che poi è una stanzina al teatro Ariston piccola cosa cosa perché lì il pubblico andava non ho capito proprio questa cosa poi se lascia lo farà qualcun altro sai guarda che qui nessuno di noi è indispensabile ma non credo lascia e poi e vabbè invece io non trovo neanche il pensiero di farlo ma poi insomma abbiamo lavorato tutti io l'ultima cosa che ho fatto è a marzo dell'anno scorso quest'anno a marzo festeggia un anno di disoccupazione però è una cosa una cosa che ci sì ma insomma siamo tutti un po' nella stessa barca e Sanremo vabbè io forse è meglio che non dica quello che penso di Sanremo ma abbiamo capito forte e chiaro diciamo Sanremo è un teatro è uno spettacolo e si adegua al periodo che stiamo vivendo quindi bene ha fatto Franceschini con quel tweet a dire ci sono i teatri chiusi Sanremo si fa senza certo 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 in quel caso sì Franceschini vabbè tra le cose che mi hanno colpito nel suo curriculum c'è stata anche questa partecipazione come giurato all'X Factor ucraino che tocca fare per campare ecco una cosa diciamo singolare nel senso che ecco che esperienza è stata ma negativa negativa ma guarda io purtroppo fra virgolette io ho partecipato due volte a due reali un reality ma fu una brutta esperienza su Rai 2 non per rappresentato da Simona Ventura che ha un bellissimo ricordo di lei proprio per quello che è il reality e poi mi hanno invitato a fare il giurato in questo X Factor ucraino che e io ho litigato mi sono trovato in contrasto con la produzione sono venuto via e perché insomma è il meccanismo che non funziona il meccanismo è già tutto deciso non mi stava che ti devo dire tanto mi guerelano no devo fare quello che dicevano loro invece siccome ci sono c'erano dei ragazzi molto in gamba a me piacevano quelli e poi ti posso dire i reality vedi cioè io ero insieme a tre colleghi famosi in quei paesi che insomma praticamente serviva più ai giurati che ai ragazzi le telecamere erano tutte sulla giuria che facevano che facevano io tanto ormai quello che ho fatto ho fatto ho fatto potevo far di più ma sinceramente penso che era più facile far meno e vedo che di questi ragazzi mi fregava niente a nessuno e insomma ho litigato ecco sono venuto via quindi insomma e non ce lo faccio più tanto sono tutte cose di un livello orrendo guarda torniamo alla sostanza delle cose sono stato educato sì abbastanza insomma quello che penso diretto ma educato torniamo invece qui al teatro alla sostanza delle cose alle opere alla bellezza di questa musica c'è una pagina del cuore in questa vedova allegra una pagina che le piace particolarmente no c'è pagine musicali ce ne sono di bellissime una più una meno a me è bello il ruolo è bella è bella l'operetta è bella riuscire a farla bene è impegnativa in questi giorni sono stanchissimo perché forse anche perché infatti mi chiedo forse anche perché sono un po' fuori allenamento è una cosa che molti cantanti mi hanno detto sono bello preoccupato perché sento poi torno la sera a casa ho i pensieri non dormo però non è che c'è una pagina sai inizia dall'inizio devi cercare di è un diadema di perle diciamo così come si dice bisogna cantare legato ecco si comincia dovrebbe essere così dall'inizio alla fine è bella lei com'è con le sue battutacce con i balletti con che ne so con tutto quello che succede durante l'ospettario e con le sue bellissime pagine musicali perché le art quando la musica è bella molto bene ringraziamo il conte Danilo ma grazie a voi Alessandro Safina e in bocca al lupo crebbi lupo a Grazie a tutti